La proprietà, quindi la Yokohama, ha accettato la nostra richiesta e cioè che si affronti il tema della riconversione, del tema dell'acquisizione con la società Alfagomma. La scelta non era scontata ma era nell'aria anche alla luce del piano industriale che prevede importanti investimenti su lavoro e nuove produzioni. Sarà dunque la multinazionale lombarda del settore dell'oleodinamica Alfagomma a proseguire la trattativa di cessione dello stabilimento ortonese della Yokohama, destinato a diventare il terzo insediamento in Abruzzo dopo quelli nel Terramano. Questa mattina, nella videoconferenza con i sindacati, il liquidatore della Yokohama ha accettato la proposta delle parti sociali che avevano già avuto l'avallo dei lavoratori nell'Assemblea precedente, l'incontro odierno. Il piano di Alfagomma prevederebbe il riassorbimento di una ottantina di lavoratori e più avanti investimenti ed ampliamenti che potrebbero portare ad impiegare fino a 150 persone. Scartata invece l'altra proposta, quella del gruppo IMM Hydraulics, che aveva avuto meno appeal anche tra i lavoratori. Voglio esaltare il lavoro fatto dai lavoratori che dal 27 di luglio non sono mai andati via dal presidio. Sicuramente è stato importante il confronto, il confronto sereno che ha avuto con questa società, con il liquidatore. Sicuramente tutti i fattori che hanno portato, ovviamente senza demagogia, è importante che l'impresa, una volta fiutato la professionalità e il prodotto che si faceva, l'impresa è un fattore importante affinché possa investire. Senza l'impresa ovviamente non avevamo futuro. Ma questo però lo voglio dire anche tenendo conto e auspicando anche di continuare a lottare ai lavoratori della Betafence, che è molto importante e che comunque sta sempre nei nostri pensieri, perché è una vertenza iniziata insieme. Credo che sia importante anche all'impresa tener conto delle professionalità. Grazie. Grazie.